bene bene salve a tutti vincent warlike e benvenuti nel mio canale siamo qua che dobbiamo continuare le mosse che avevamo da fare nello scorso episodio prima di andare ovviamente a passare il turno abbiamo delle cose da fare sicuramente allora innanzitutto direi questo è lo schieramento che abbiamo cacciato da murom ok quindi al momento direi di andare a eliminare con questo schieramento che sta assediando riazzan ok quindi togliamo l'assedio tanto avevamo appena incominciato perché preferisco eliminare questi eserciti dove ci sono anche i gritni dentro quindi è meglio eliminarli allora bene eliminiamoli allora adesso comunque non riusciamo più a muoverci chi vi ha infastidito sto per occuparmi di una persona o di un luogo indicate un obiettivo verrà eliminato guardiamo ordini ok anche queste unità ci arrivano quindi direi di prenderle e di andare ad attaccare se lo verde ok vabbè non ci arrivano proprio proprio ma va bene penso che non abbiano via di scampo l'unica cosa è sperare che lo schieramento qua all'interno non mi attacchi però vabbè non vedo che siano tanto più forti noi abbiamo la cavalleria che ci può dare una mano allora vladimir stiamo sempre messi un po' da culo non mi sembrava messo così ma a volte quando carico le partite mi sembra che cambino le cose però vabbè sarà una mia impressione preferiremmo vedervi morto attenzione perché abbiamo uno schieramento qua e io qua non ho nulla qui non ho nulla nobile sire desiderate guardare nei nostri magazzini non ho nulla nobile sire desiderate guardare nei nostri magazzini non ho nulla poi intanto vabbè pensiamo qua sto mandando avanti questo piccolo manipolo di uomini per andare a conquistare oh mamma mia se lontano questo insediamento provare a vedere di eliminare una volta per tutte la fazione degli insorti che dovrebbe dopo sparire spererei qua l'indanise è tornata da noi però vabbè non ho mai cosa volete mai non me ne preoccupo neanche più cioè è solo una perdita di tempo stiamo assediando Kernave ok la teniamo 5 turni per la resa la teniamo lì sotto assedio sperando che il nostro esercito non ci abbandoni ok e niente abbiamo alexander qua pronto per andare a combattere quindi vediamo di risolvere un po' di situazioni allora qua è un paesino possiamo risolverla subito ottimo sterminiamo la popolazione così ci prendiamo un po' di soldi lasciamo qua dentro una unità e andiamo a prendere anche l'altro insediamento anche questa in automatico molto bene anche qui ci prendiamo dei soldi e anche qui lasciamo una unità e andiamo a Mosca e questa Mosca non quella la qui facciamo delle scale ok dopo abbiamo anche il monastero da conquistare comunque si abbiamo capito allora alexander 3 di terrore 1 di autorità 2 di sicurezza 2 di sicurezza e 3 di legge all'ordine pubblico molto bene più 3 di terrore più 2 di terrore la resistenza è futile più 1 di terrore ok gli insediamenti li abbiamo presi guardiamo qua 3 di terrore allora abbiamo un po' di soldi e ah qua non ci sono mercenari allora guardiamo un po' vabbè mettiamo a posto questi ah qui c'è uno schieramento preferiremmo vedervi morto pagano ok il campo di battaglia ci incontreremo uno schieramento un po' grossino qui c'ho un fottio di allora quasi quasi lascio solo quell'unità nella città nella città nella villaggio scusate di snovici e porto tutti qua dentro ok bene adesso li sistemiamo un po' allora qua abbiamo detto che stiamo sediando abbiamo quell'esercito ozzoli in giro che non mi piace neanche un po' quindi penso che utilizzerò questi uomini volevo utilizzarli in un'altra maniera ma va bene anche questi li porto e anche questi qua continueremo domani mio signore non c'ho non c'ho unità qua va bene c'ho dei soldini c'ho qualche soldo dal fatto che questi si muovono troppo liberamente allora stavamo facendo un mercante ok non volevo spendere così tanto ma va bene ah la riga eh la riga dobbiamo riparare tutto vabbè l'abbiamo già messo a posto nobile sire eh 1200 una fanteria beh direi che qua non ne ho bisogno ok quindi vediamo un po' di vabbè questo lo mettiamo lì quasi quasi non lo riparo neanche sta cosa qua perché mi tengo i soldi fanculo mi ha rotto le palle veramente quindi abbiamo reclutato qua qui stiamo mettendo a posto ok qui stavo reclutando qualcosina bene perché c'ho un po' di soldi però mi sembrano un po' pochi per chiedere ai mongoli ma sono già con chi sono in guerra ah loro sono già in guerra con Kiev molto bene quindi perché non fare una donazione per tenercili buoni ok ok gli diamo mille monete no io gli devo dare non mi ahahah oddio questi mi ammazzano oddio very demanding mmm allora gli do un regolare tributo di 200 per 5 turni come offerta qui questi non parlano non si capisce ma dovrebbero essere più gentili insomma più tranquilli con noi teniamoceli buoni allora abbiamo dei soldi abbiamo detto anche qua andare a fare il retrain c'è sempre la peste che elimina degli uomini eviterei allora possiamo prendere questo qua però 1290 monete privarsene certo che io dopo vorrei andare ad attaccare le mie idee di fare un esercitozzo con un po' di gente e andare ad attaccare qua i teutonici e dare tutto in mano ai polacchi se posso se posso eh quindi qua l'indanise sono indecisissimo ragazzi dare l'indanise ai polacchi non mi piace tanto solo per il motivo che è troppo lontano cioè se gli do questi pazienza qua giù e sotto le nostre linee cioè mi fido eh di loro perché insomma non ci hanno mai tradito quindi boh proviamo a tenere i soldi altrimenti guardiamo se c'è qualcosa di interessante da reclutare sempre free fighters eh niente di che quindi lasciamolo così per il momento ah volevo reclutare solo uno da mettere lì che è libero questo free fighter qua eh vabbè facciamo anche questo ok passiamo il turno via altrimenti qui qui è messo male l'ordine pubblico non posso accidentaccio vabbè dai passiamo il turno allora cercavo gli insorti bizantini ma quanto pare qua gli bizantini si sono ripresi le città degli insorti eh lì c'è dell'oro oro 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 che tutte le volte che vado lì eh dovrei mandargli un mercante più forte ok perché di solito gli mando i mercanti quelli tristi appena fatti e invece gli devo mandare dei mercanti più abili e adesso lo facciamo dai sposto un mercante da qualche parte un mercante forte magari vicino ma allora la guerra è finita ma che è finita ragazzi è finita la guerra e te lo diamo a casa per l'incendio e poi mettetevi a me ma che è finita un corno mi metto un attimo allora scusatemi rieccomi qua una telefonata allora l'indanese fortunatamente nessuno è stato colpito vabbè danneggiate la ct ma ormai vi ho già detto non me ne frega niente qui i bizantini in large town ma noi stavamo andando dai gli insorti andiamo a vedere qua ci sono qua insorti eccolo qua c'è qualcosa che posso fare per voi un mappa informazione ah ce l'abbiamo già un un trattato commerciale con i bizantini insorti dai va bene ho capito che c'è ti dai su cento cento turni abbiamo un accordo la proposta sembra abbastanza accettabile va bene allora guardiamo un po' gli insorti bizantini eh eh questi non è insorti dove sono gli insorti qua ma gli insorti ci hanno costantinopoli po' 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 vai vai qua dai turchi mi parlerò ora mio signore finisce il viaggio di oggi ah mi ricordo che avevo mandato qua del dei mercati perchè qua con il lavoro si faceva un casino un botto di soldi e infatti adesso li facciamo facciamo faccio i mercanti eh recruits mercanti costruzione qua interessante eh aspetta un attimo che guardiamo qua diplomatico ok ricostruzione costruzioni morto un mercante in bohemia quindi anche qui mercante ci serve allora guardiamo qua ripariamo questo ok qua ripariamo ogni turno facciamo una riparazione allora mercante ah qua non posso farlo qui è in mano agli insorti ok allora questo qua che sta prendendo nulla lo portiamo qua giù a prendere eh dove 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 qua eh c'è anche qua dell'oro andiamo qua a prendere questo cos'è argento ferro pronto pronto a commerciare eh tutte le volte che si bloccano è un casino allora vai qua sì mi muovo non posso procedere oggi mio signore cinquecento monete fa qua ne facciamo mille e due come è? abbastanza forte proviamo come desiderate a vedere sicuramente c'è qualcuno proviamo a mangiarcelo no 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 chiuderà cazzarola soldi meno che arrivano soldi meno che arrivano però vabbè dai adesso li facciamo faccio un reclutamento di mercanti a go go perché ne ho bisogno ok quanto costa il mercante? costa 0 e mantenimento è 10 quindi facciamo una vera armata di mercanti molto importante allora qua sembra che non ci sia sì avanti così radunare le truppe ordini eh ormai siamo dati di qua andiamo di qua eh comandate mio signore non è possibile allora qua reclutiamo un po' di gentaglia per difenderci sicuramente dei ribelli ok probabilmente sono unità di vladini che stanno diventando dei ribelli qua c'era anche un grosso esercito ma non so eccolo è qua è qua è qua è qua ok è qua indicatemi il nemico sire allora marciamo contro le nostre vittime non abbiamo avuto pietà non la meritavano mio signore eh va tutti in città sì vittoria dove possiamo colpire mio signore li cacceremo tutti all'inferno o peggio in marcia vittoria nessuno fermerà queste forze ottimo non abbiamo avuto pietà non la meritavano ok marciamo per le strade dell'insediamento nemico vittoria lasciamo qua qualcuno eh le cavallerie le ho un po' dannezzate ma vabbè dai lasciamo lasciamo dove possiamo colpire lasciamo una cavalleria le lascio anche due marciamo contro le nostre vittime presto o tardi non cedere mio signore in partite l'ordine di finire terrore la resistenza è inutile conquista ok ha acquisito i nostri soldi il mercante eh molto bene eh faccio anche qua dei mercanti eh siamo già al massimo quando non possiamo più reclutare vuol dire che ne abbiamo già uno per città quindi non possiamo eventualmente più reclutarne ok la dove ah sempre a riga deve essere il problema allora proviamo a fare un in in eh in in un roadside in eh felicità però cosa c'è di meglio eh questo sarebbe meglio e ripariamo questo qua allora eh qui il generale è morto o ordini ahhh Stavo guardando Adesso questi arcieri li porto qua Perché non mi fido di quei Gli insorti Allora qua Aspettiamo ancora perché Ho perso anche il generale Sarà morto spero sia morto Era anche un triste generale Ok qua abbiamo diverse unità Che se vado a finire qua La guerra con Vladimir Qui cosa abbiamo Li prendo Ok Bene Prendiamo un castello Lo sterminiamo Ci prendiamo un botto di soldi Proviamo che voglio parlare con i mongoli Attacchiamo Attacchi la fazione di Vladimir E ti do Cos'è change tribute Ah no il tributo Gli stiamo dando un tributo E gli do Un singolo pagamento E ti do 7500 monete Non le abbiamo Ne abbiamo 6.000 Allora facciamo un singolo pagamento 6.000 monete Ok Very demanding Vabbè Gli offro un singolo pagamento Intanto perché Me li devo tenere buoni Accettano Molto bene Me li devo tenere buoni Ok Resistenza in Moskov Qui l'insediamento sta migliorando Guardiamo di fare qualcosa Allora dell'altro retrain Ok Ok Nobile sire Sì mio signore Qui incontreremo il nemico Mio signore Abbiamo vinto Il vostro volere Comandate Come volete mio signore Marciamo in battaglia È il nostro giorno Ecco io non capisco Perché non mi ritorna qua Dai cazzo Che dopo mi diventi insorto Sire Sì Siete certo Nobile sire Eh vabbè Figliamocelo qua Faffanculo Dai però Ma che cazzo è sta trappola qua Dai Cazzo è sta trappola Sta trappola mortale Miseria Oddio santo Dio se odio Ste cose qua Ma perché Non torna più Siamo qui cazzo Combattuto Dentro e fuori Dai Oh che palle Porca troia Ti devo pronteggiare Tanto sta per finire L'episodio Sicuramente Con la rabbia Perché mi arrabbio sempre Ultimamente mi arrabbio spesso Dico la verità Ma perché mi ci fanno arrabbiare Stavo guardando se c'era qualche unità da poter portare qua giù Ma non vedo Niente Di buono Poi figurati sto generale qua Mamma mia Questo lo perdiamo un'altra volta Preferiremo vedervi morto Pagano Dove possiamo colpire mio signore Mio signore Ne dovremmo risparmiare qualcuno Non abbiamo avuto pietà Non la meritavano Dove va? Chi devo pronteggiare Marciamo contro le nostre vittime Li abbiamo fatti a pezzi Oh più uno di lealtà Mamma mia Tanta roba Dove possiamo colpire mio signore Mio signore Ne dovremmo risparmiare qualcuno Ci accampiamo qui Mio signore Dai lo usiamo così Perché è tanto È inutile che all'indanise lo lascia là Perché fa cacare Allora niente ragazzi Vi saluto Perché sennò mi incasino E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao Alleluia 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 Grazie a tutti.